Quello che dico all'amministrazione è di passarsi una mano sulla coscienza. Condannati a pagare 40.000 euro di spese al comune dopo aver perso la causa civile per la morte del padre durante uno spettacolo ad Acitrezza in provincia di Catania. Si sentono beffati i figli di Claudio Anastasi. Aveva 58 anni quando il 29 giugno 2013 la cima di una palma li cadde addosso uccidendolo. L'inchiesta, aperta dalla procura catanese per omicidio colposo, si concluse con un'archiviazione Inutile, almeno finora, anche la battaglia legale della famiglia che ha citato in giudizio l'amministrazione locale per non aver mai controllato quella pianta malata. Questa palma era stata già segnalata con una raccomandata con ricevuta di ritorno naturalmente un elemento prodotto nelle opportunità di legale il giudice non ti tiene conto perché il CTU, il professor Giancarlo Polizzi ha detto tutt'altro, ha detto che la malattia non era visibile dall'esterno però c'è qualcosa che non mi torna. Secondo i giudici, i figli di Claudio Anastasi devono non solo pagare le spese legali cioè 20.000 euro, ma dopo l'appello sono obbligati a versare altri 20.000 euro perché l'istanza di compensazione delle spese legali è stata rigettata. Per il Tribunale si è trattato di un caso fortuito il Comune non avrebbe potuto far nulla neanche se ci fossero stati dei controlli sulla palma e ora l'amministrazione batte cassa. Io sono un dipendente, un semplice impiegato, ho due figli, ho un mutuo non dispongo di questo importo, quindi sto rischiando di perdere la casa per risarcire una vicenda assurda.